25.03.2019 stella di Benedetto Giorgette Polizzi, foto da Instagram con la forza di una leonessa, ad un anno dalla scoperta di avere la scerosi multipla, Giorgette Polizzi ha ripreso in mano la propria vita ed oggi sta sempre meglio grazie Giorgette, infatti, ha imparato a convivere con una malattia grazie anche ad una nuova cura che sta seguendo La stilista guarda così con ottimismo al futuro e si sta preparando al matrimonio Giorgette, infatti, convolerà a giuste nozze con il fidanzato Davide Tresse il prossimo 15 settembre Sarà un giorno importantissimo per la stista che, in Davide, ha trovato non solo il compagno giusto, ma anche la persona che le infonde coraggio e fiducia per il futuro Mi impegno al massimo nel lavoro, faccio attività fisica, viaggio e mi circondo di effetti Ho imparato a godermi ogni piccolo momento della vita E Davide mi supporta con tutto l'amore possibile Per me, questo è un aiuto immenso, ha dichiarato a Nuovo TV Giorgette Polizzi e l'emozione per il matrimonio con Davide Tresse dopo aver titubato a causa della malattia Giorgette Polizzi, alla fine, ha ceduto accettando la proposta di matrimonio del fidanzato Davide Tresse Per il grande giorno è quasi tutto pronto La stista, infatti, si sta occupando di tutto e ha già trovato l'abito dei suoi sogni con il quale pronuncerà il fatidico sì Vi comunico ufficialmente che ce l'abbiamo fatta, ho scelto il mio abito da sposa È proprio vero che quando lo indossi ti parte qualcosa allo stomaco e ti scende una lacrima Diciamo che io ho pianto come una fontana, ha annunciato ai fans la futura sposina Felice e innamorati, Giorgette e Davide sono pronti a scrivere una nuova pagina della loro splendida storia d'amore che il pubblico ha conosciuto grazie alla loro partecipazione a Temptation Island Da quel momento, i fan sano continuano a seguirli ed ora non vedono l'ora che arrivi il 15 settembre per poter partecipare alla loro favola d'amore, diritti d'autore e riproduzione riservata Grazie